Ciao a tutti, lui è la mia fiamma gemella, chi fosse interessato ad avere una risposta a questa domanda, seguo il video. Nel frattempo iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Tremasco, iscriviti al nuovo canale, felicità benessere, di questo posto il link in descrizione. Mescluiamo le carte, tagliamo, giriamo e tra le tante carte a disposizione ne vado a scegliere 4 casuali. La carta 1, la carta 2, la carta 3 e la carta 4. Ora, concentrati. Concentrati su questo lui, del quale vuoi sapere se è la tua fiamma gemella, poi scegli la carta 1, la carta 2, la carta 3 o la carta 4. Perché hai scelto la carta 1? Non è sicuramente la tua fiamma gemella e anzi ha un giudizio negativo su di te. Che hai scelto la carta 2? Diciamo che può essere, c'è una forte connessione mentale, quindi la chiave per capirlo sarà la tua mente. Che hai scelto la carta 3? La fortuna è una persona sicuramente importante, ma probabilmente non è la fiamma gemella vera. Che hai scelto la carta 4? Non è la fiamma gemella, non ti è fatta giustizia in questo caso. Per questo video è tutto, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco, iscriviti al canale, iscriviti al nuovo canale Felicità e Benessere, di cui ti posto il link in descrizione. Ciao a tutti!